Sulla questione invece del nostro collega Gian Bruno, nonché fidanzato, compagno della Premier, allora penso che siano le sue uscite, che hanno fatto tanto discutere, poco intelligenti. Ehm, penso che l'ultima, quella sulle, se le ragazze evitano di ubriacarsi, evitano anche di incontrare il lupo, intollerabile. E penso che quello che non abbiamo sentito ieri dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in tutto questo siparietto dove lei ha risposto alla domanda di un giornalista del fatto, peraltro, Molto bravo, Giacomo Salvini. Salvini. Ehm, non ho sentito parole di empatia verso le vittime dello stupro, ubriache o non ubriache che siano, capite? E' questa la cosa grave. La cosa grave è che continuiamo a pensare, ma in fondo, sentite, sei andata a cercartela, ma possiamo pensare che un ragazzo, un uomo, abusi di una donna quando è ubriaca e che per questo sia lei meno vittima e lui meno stupratore? Ma è un orrore questo, è un orrore. Allora io avrei voluto una Presidente del Consiglio che lo dicesse in modo netto, chiaro, invece non l'abbiamo sentita. L'abbiamo sentita irritata a un certo punto. Ci ha consigliato di tenere la testa sulle spalle. Ci ha consigliato, scusate. E ho gli occhi aperti. Ma una società in cui i genitori, le madri, i padri devono dire ai propri figli e le proprie figlie quando escono la sera stai attento, non te la testa sulle spalle. Io sono di un'altra generazione, ma insomma i genitori intanto ci dicevano siete responsabili, responsabilizzatevi sin da quando eravamo piccoli. E quindi eravamo... E poi non è che gli dicevano divertitevi, no? Uno pensa che questo un genitore debba dire anche ai suoi figli o no? Deve dire solo devi avere paura, devi stare in guardia perché là fuori c'è il lupo. Beh un orrore, una società che vive dove le ragazze non possono uscire perché c'è la paura dello stupratore dietro l'angolo. E chi ci governa non denuncia questa anomalia, questo orrore, è una società fallita. Questo lo dobbiamo capire. Che dietro al fatto degli stupri, a tutti questi orrori che adesso quest'estate diciamo ci hanno colpito in particolar modo perché anche per la giovane età degli stupratori e per questo gang rape, no? Che è proprio secondo le modalità di tanta pornografia. Ma è un orrore. Io non sono, guardate, una educanda. Non c'ho niente quando ognuno fa quello che vuole nella sua intimità. Ma il rispetto minimo tra due persone. Io non posso credere che tutti i giovani siano, non sono tutti così i ragazzotti. Non sono tutti così. Vedremo anche che cosa succederà con il figlio di Larussa. Io sono sicura che uscirà benissimo da questa vicenda. Ma ci sono troppe ambiguità che vediamo e che sentiamo. E quindi mi piacerebbe veramente avere un po' più di chiarezza. E per il fatto, Giorgia Meloni ha chiesto ai giornalisti di non farle più domande sul suo compagno. Cara Presidente del Consiglio, è impossibile. In una società democratica questo non esiste. Perché ci sono presidenti del Consiglio le cui mogli facevano le giornaliste e che hanno fatto un passo indietro. Come in Spagna, per esempio. No, anche in Italia. Anche in Italia, la moglie di Enrico Letta è una giornalista del Corriere della Sera molto brava. La moglie dell'ex sindaco, nonché ex ministro Rutelli, è anche una giornalista. Quindi ci sono la Michelle Obama. Non è che ha fatto la politica o l'avvocata di grido fin quando suo marito è stato presidente degli Stati Uniti. Quindi bisogna sapere. Sapete cosa? Bisogna sapere che quando si rappresentano le istituzioni è un altro film e le istituzioni vanno rappresentate con dignità e onore e vanno rispettate. Perché se chi è al potere non lo fa, poi non ci dobbiamo stupire se tutti i criteri della civile convivenza in una società vanno a farsi friggere. Grazie. Grazie.